Musica Si è svolta oggi presso la Sala Civillo di Palazzo Matteotti la premiazione dei docenti e degli alunni del terzo e quarto anno dell'Istituto Professionale Petronio di Pozzoni che hanno contribuito alla quinta edizione e per tutti Natale cena beneficenza che ha riunito circa 400 partecipanti L'iniziativa, promossa dalla FEDER Mediterraneo ha ricevuto l'adesione del Presidente della Repubblica e l'apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Tra i primiati anche il Presidente della Provincia di Napoli, Antonio Pentangelo il Dottor Gennaro Perrino, Direttore del Dipartimento Saluto Mentale ASA Napoli 2 Nord Giovanni Oriani, Presidente FEDER Mediterraneo il Vescovo Monsignor Angelo Spinillo e il Dirigente Scolastico Luigi Arionte il Vescovo Monsignor